Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Nei prossimi due video tratteremo del materiale basilare per ciò che studieremo nel resto del seminario. Ora passiamo al luogo santissimo del Santuario Celeste. Oggi non vedrete il collegamento con il Santuario, ma ciò che studiamo ora è fondamentale per i prossimi studi ed è molto importante per comprendere Daniele capitolo 8, che tratta il tema del Santuario. Aprite le vostre Bibbie in Daniele capitolo 2, il capitolo che oggi studieremo. Innanzitutto, notate che Dio sapeva ciò che pensava Nabucodonosor quando era coricato nel letto. Dio può leggere i nostri pensieri. Vi do una prova biblica in cui Dio legge i pensieri. Daniele capitolo 2, verso 29. Daniele sta parlando al re. O re, i pensieri che ti sono venuti sul tuo letto riguardano ciò che deve avvenire d'ora in poi. E colui che rivela i segreti che ha fatto conoscere ciò che avverrà. Quando andò a letto, Nabucodonosor pensava al futuro del suo regno. Perché qui dice, i pensieri che ti sono venuti sul tuo letto riguardano ciò che deve avvenire d'ora in poi. Dio sapeva quello che pensava al re. Quindi, attraverso un sogno, Dio fa sapere al re cosa accadrà in futuro, affinché capisca cosa accadrà in futuro. In Daniele capitolo 2, verso 1, si parla di questo sogno. Dio dice ai saggi di Babilonia, Il re disse a loro, Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato, finché riuscirò a conoscere il sogno. Cioè, si svegliò ma dimenticò il sogno. È stato Dio a far dimenticare il sogno al re. Per quale motivo Dio dà un sogno al re e poi, quando il re si sveglia, Dio gli fa dimenticare il sogno? Dio sapeva che la prima cosa che il re avrebbe fatto era di chiamare gli esperti babilonesi per farsi raccontare il sogno e il suo significato. Ed è accaduto proprio questo. Daniele capitolo 2, verso 2, Il re allora diede ordini di chiamare i maghi, gli astrologi, gli stregoni e i caldei, la casta sacerdotale babilonese, perché raccontassero al re i suoi sogni. Questi vennero e si presentarono al re. Queste persone dovevano presentarsi al re perché non avrebbero potuto raccontare il sogno al re e tutti avrebbero visto che la religione di Babilonia era falsa. Cioè, Dio vuole smascherare questi cosiddetti esperti. Vuole mostrare che la magia, l'astrologia e la stregoneria non funzionano. Daniele capitolo 2, verso 10, I caldei risposero davanti al re e dissero, Non c'è alcun uomo sulla terra che possa far sapere ciò che il re domanda. Infatti, nessun re, signore o sovrano, ha mai chiesto una cosa simile ad alcun mago, astrologo o caldeo. Notate Daniele capitolo 2, verso 11. C'era solo una fonte che poteva raccontare il sogno al re. E secondo i maghi, quella fonte era Daniele capitolo 2, verso 11. La cosa che il re domanda è troppo difficile. E non c'è nessuno che la possa far sapere al re. Se non gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali. Loro dicono che agli dèi che loro servono piace nascondere le cose e gli piacciono i segreti. E i maghi lo possono raccontare solo se gli dèi lo rivelano. Assolutamente, questa non è la cosa che fa il Dio della Bibbia. Amos, capitolo 3, verso 7. Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Rileggiamo di nuovo Daniele, capitolo 2, verso 29. «Ore, i pensieri che ti sono venuti sul tuo letto riguardano ciò che deve avvenire d'ora in poi. E colui che rivela i segreti ti ha fatto conoscere ciò che avverrà». C'è un forte contrasto tra gli dèi pagani e il Dio della Bibbia. Gli dèi pagani nascondono queste informazioni, ma il Dio della Bibbia è il Dio che rivela i segreti ai suoi servi, i profeti. Ci sono tre parole chiave. «Se non gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali». Nella Bibbia c'è un altro versetto che usa quelle tre parole. Giovanni, capitolo 1, verso 1 e verso 14. «Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio». Ecco una parola chiave. Verso 14. «E la parola, che è Dio, si è fatta carne». Questa è la seconda parola chiave. «Ed ha abitato fra di noi». Gesù Cristo è il più grande rivelatore dei segreti di Dio. «E la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'Unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità». «Il diavolo non può leggere il nostro pensiero». Lo sappiamo perché il diavolo moriva dalla voglia di raccontare il sogno del re agli astrologi per mostrare che la religione di Babilonia era vera, eppure non poteva farlo. Ma quando la religione del diavolo è smascherata, allora decide di uccidere Daniele con i suoi tre amici. Il diavolo aveva visto che questi ragazzi erano un potenziale pericolo per lui, perché nel primo capitolo aveva visto che questi ragazzi erano stati fedeli a Dio nei cibi e nelle bevande. Daniele, capitolo 2, verso 12. «A questo il re si adirò, montò in collera e ordinò di sterminare tutti i savi di Babilonia». Verso 13. «Così fu promulgato il decreto in base al quale i savi dovevano essere uccisi, e chi cercano?» E cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Ma ora è il turno di Dio. Satana vuole uccidere Daniele e i tre amici, ma Dio userà questa situazione per elevarli nel regno. «E' accaduto proprio questo». Daniele, capitolo 2, verso 48 e 49. «Ora Daniele e i tre amici diventano famosi. Cioè, anziché essere distrutti, come voleva il diavolo, Dio li fa presenziare davanti al re, per occupare delle posizioni importanti nel regno ed influenzarlo per vari decenni». Daniele, capitolo 2, verso 48 e 49. «Allora il re rese Daniele grande, gli diede molti e grandi doni. Lo fece governatore di tutta la provincia di Babilonia e capo supremo di tutti i savi di Babilonia». Inoltre, dietro richiesta di Daniele, il re prepose Shadrach, Meshach e Abednego all'amministrazione degli affari della provincia di Babilonia. Daniele, invece, rimase alla corte del re. Qui c'è un botta e risposta tra due forze, quelle del bene e quelle del male, tra Dio e Satana. In che modo Dio mostra il sogno a Daniele? Daniele, capitolo 2, verso 17 e 18. «Allora Daniele andò a casa sua e fece sapere la cosa ai suoi compagni, Anania, Mishael e Azaria. Sono i loro nomi ebrei, perché implorassero misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo segreto, perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi di Babilonia. La preghiera è il metodo usato da Daniele affinché Dio gli riveli il segreto del futuro che è nascosto. Se vogliamo sapere cosa è in serbo per noi, cosa dobbiamo fare? Non andiamo dall'astrologo, da chi legge il palmo della mano, non leggiamo lo zodiaco, non consultiamo il presunto spirito del morto, ma preghiamo a Dio affinché ci riveli il segreto. La storia è come il gioco degli scacchi. Magari lo avete già sentito. C'è la scacchiera. Da una parte siede Dio e dall'altra parte siede Satana. Il movimento delle pedine è il movimento della storia. Quindi Dio dice a Satana, tocca a te. Quindi Satana si muove nella storia e poi tocca a Dio. Quindi Dio contrasta i movimenti di Satana. La storia si sviluppa con un botta e risposta. Satana cerca di interrompere i piani di Dio e Dio che esegue i suoi piani. Il diavolo deve indovinare i movimenti di Dio. Ma Dio conosce ogni cosa che farà Satana e quindi farà in modo di contrastare le mosse di Satana nella storia umana. Perché Dio conosce la fine dall'inizio. Ora parliamo del sogno. Daniele capitolo 2, verso 31. Qui Daniele dice al re, tu stavi guardando, ore, ed ecco una grande immagine. Questa enorme immagine di straordinario splendore si ergeva davanti a te con un aspetto terribile. Poi c'è il sogno. Verso 32. La testa di questa immagine era d'orofino. Il suo petto e le sue braccia erano d'argento. Il suo ventre e le sue cosce di bronzo. Le sue gambe di ferro. I suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. C'è l'oro, l'argento, il bronzo, il ferro e il ferro con l'argilla. Notate il verso 43. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò, ma non per mano d'uomo, e colpì l'immagine sui suoi piedi di ferro e d'argilla e li frantumò. Allora il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro furono frantumati insieme e diventarono come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e di essi non si trovò più alcuna traccia. Ma la pietra che aveva colpito l'immagine diventò un grande monte che riempì tutta la terra. Ora c'è un punto molto importante da vedere. Nella sequenza storica di Daniele capitolo 2 non ci sono buchi perché molti cristiani dicono che c'è un buco tra le gambe e i piedi che è durato 1900 anni. Ma in questo sogno non c'è alcuna prova a sostegno del vuoto nella sequenza dei regni. La sequenza dei regni scorre senza alcuna interruzione. Ora notate l'interpretazione di questo sogno perché più avanti viene detto il significato. Daniele capitolo 2 verso 37 e 38 Daniele dice Tu o re sei il re dei re perché il Dio del cielo ti ha dato il regno la potenza la forza e la gloria dovunque dimorano i figli degli uomini le bestie della campagna e gli uccelli del cielo egli li ha dati nelle tue mani. Dio ha messo Nabucodonosor la storia umana è controllata da Dio. Ora notate l'ultima parte del verso 38 Egli li ha dati nelle tue mani e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. Ora notate Tu sei quella testa d'oro. questa profezia spiega chiaramente cos'è la testa d'oro. La testa d'oro simboleggia Nabucodonosor ma il suo regno era Babilonia. Noteremo che nella profezia re e regno sono sinonimi. Infatti leggiamo il prossimo verso per capirlo meglio. Dice dopo di te sorgerà un altro regno. Quindi la testa d'oro è un regno perché dice dopo te sorgerà un altro regno. Nabucodonosor è il capo di un regno. La testa d'oro rappresenta il regno babilonese. Dopo te sorgerà un altro regno inferiore al tuo. Notate che dice poi un terzo regno di bronzo che dominerà su tutta la terra. Per ora ci sono tre regni. Il primo regno è Babilonia il regno di Nabucodonosor il secondo regno è la Medo-Persia. venuto immediatamente dopo Babilonia perché la conquistarono e dopo i Medo-Persiani c'è la Grecia e non c'è neppure bisogno di controllare nei libri di storia per sapere che i primi tre regni sono quelli già citati. Dovete solo studiare il libro di Daniele il quale include questi tre nomi. Ora è facile trovare il quarto regno. cioè la Bibbia parla del regno che conquista Babilonia e in Daniele capitolo 5 Bel-Chassar è il re di Babilonia ma il re Dario il Medo conquista Babilonia. Le truppe dei Medo-Persiani conquistarono Babilonia quindi conosciamo il secondo regno la Medo-Persia poi in Daniele capitolo 8 lo studieremo in seguito è detto che dopo la Medo-Persia c'è la Grecia viene citata la Grecia Babilonia Medo-Persia e Grecia a sua volta la Grecia viene conquistata dall'impero romano Daniele capitolo 2 verso 40 il quarto regno sarà forte come il ferro perché il ferro fa pezzi e stritola ogni cosa come il ferro che frantuma quel regno farà pezzi e frantumerà tutti questi regni questa è una giusta descrizione di Roma infatti lo storico Edward Gibbon scrisse i cinque volumi il declino e la caduta dell'impero romano definendo Roma come la monarchia di ferro di Roma lui era uno storico secolare non era un credente eppure dice la monarchia di ferro di Roma i primi quattro regni sono Babilonia Medo Persia Grecia e l'impero romano Daniele capitolo 2 verso 41 come tu hai visto che i piedi e le dita erano in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro così quel regno sarà diviso tuttavia in esso ci sarà la durezza del ferro perché tu hai visto il ferro mescolato con l'argilla molle e come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla così quel regno sarà in parte forte ovviamente la parte forte è quella del ferro poi continua dicendo e come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla così quel regno sarà in parte forte è il ferro e in parte fragile la parte fragile è l'argilla ora vediamo questi versetti molto importanti normalmente i piedi hanno dieci dita il quarto regno si sarebbe diviso in dieci regni è molto semplice nei piedi c'è il ferro nelle gambe c'è il ferro il ferro e i piedi simbolizzano l'impero romano il ferro nei piedi simbolizza il fatto che l'impero romano continua ma lo fa in modo diviso è diviso in dieci nazioni capite? ma notate che nei piedi al ferro è aggiunto uno strano elemento qual è? è un'argilla speciale argilla di vasaio il ferro continua sino ai piedi ma poi viene aggiunta l'argilla nei piedi c'è una Roma diversa perché Roma è divisa in molte nazioni è un miscuglio non è più solo ferro non è più la Roma politica ma c'è un altro elemento che viene unito al ferro questa è una unione illegittima perché chi unirebbe mai il ferro con l'argilla sono due cose totalmente diverse in Daniele capitolo 2 ci sono dei simboli l'oro è un simbolo l'argento è un simbolo il bronzo è un simbolo il ferro è un simbolo la pietra è un simbolo la montagna è un simbolo quindi ora dobbiamo sapere cosa simbolizza l'argilla perché sappiamo già che il ferro simbolizza il potere politico dell'impero romano l'impero romano continua come un'entità politica divisa ma gli sarà aggiunta l'argilla quindi dobbiamo sapere cosa significa l'argilla nella Bibbia Geremia capitolo 18 dal verso 1 al 6 la parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno dicendo alzati e scendi alla casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole allora io scesi alla casa del vasaio ed ecco egli stava facendo un lavoro alla ruota ma il vaso che stava facendo con l'argilla questa è argilla di vasaio si guastò nelle mani del vasaio così cominciando da capo egli fece con essa un altro vaso come parve bene agli occhi del vasaio qui Geremia descrive la schiavitù babilonese un testo che lo dimostra è Geremia 19 verso 11 non c'è tempo per leggerlo ma usa le stesse parole per la schiavitù di Israele catturato da Nabucco Donosor cioè Dio forma Israele nel monte Sinai ma a causa dell'apostasia si ruppero e dopo 70 anni Dio riportò Israele nella loro terra capite? quindi rifece nuovamente i vasi non dobbiamo indovinarlo perché in Geremia capitolo 18 verso 5 è scritto allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo o casa di Israele non posso io fare con voi come ha fatto questo vasaio dice l'Eterno ecco come l'argilla è nelle mani del vasaio così siete voi nelle mie mani o casa d'Israele l'argilla di vasaio simbolizza il popolo di Dio la chiesa di Dio dell'Antico Testamento simbolizza l'istituzione religiosa di Dio la chiesa dell'Antico Testamento Israele andiamo in Genesi capitolo 2 verso 7 si parla della creazione dell'uomo allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra cosa mancava? il respiro di vita poi dice gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente ora il corpo è stato completato con tutti gli organi e quando vi entra lo spirito ogni organo funziona in perfetta unità Isaia 64 verso 8 tuttavia o Eterno tu sei nostro padre noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi noi tutti siamo opera delle tue mani qui si parla della reale creazione dell'uomo ma questa vera creazione ha pure un significato simbolico parlando simbolicamente la chiesa è il corpo di Cristo leggiamo Colossesi capitolo 1 verso 18 si parla di Gesù egli stesso è il capo del corpo cioè della chiesa egli è il principio il primo genito dai morti affinché abbia il primato in ogni cosa quindi la chiesa è il corpo di Cristo Gesù disse e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa Gesù creò la chiesa lui creò il corpo prima della pentecoste in che condizioni era il corpo la Bibbia dice che perseveravano con una sola mente ma cosa mancava cosa mancava al corpo mancava al respiro cosa accadde il giorno di pentecoste atti capitolo 2 dal verso 2 al 4 e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andavano a posarsi su ciascuno di loro così furono tutti ripieni di spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo spirito dava loro di esprimersi non c'era solo il dono del parlare in lingue ma la chiesa ricevette tutti i doni dello spirito 1 Corinzi capitolo 12 dal verso 12 al 13 come infatti il corpo è uno ma ha molte membra e tutte le membra di quell'unico corpo pur essendo molte formano un solo corpo così è anche Cristo ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo sia giudei che greci sia schiavi che liberi e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito quindi l'argilla di vasaio simbolizza la chiesa ricordate la visione di Ezechiele della valle con le ossa secche che erano disperse dappertutto poi attraverso Ezechiele Dio rimette in ordine tutte le ossa del corpo e poi Dio gli diede il respiro della vita lo spirito e si alzarono in piedi cosa simboleggiano tutte le parti del corpo che si uniscono e poi lo spirito che entra nel corpo Ezechiele capitolo 37 verso 10 e 11 così profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi erano un esercito grande grandissimo poi mi disse figlio d'uomo queste ossa sono tutta la casa di Israele capite? ecco essi dicono le nostre ossa sono secche la nostra speranza è svanita e noi siamo perduti l'argilla di Vasaio rappresenta la Chiesa cosa accadrà nel periodo dei piedi dell'immagine con la divisione dell'impero romano ci sarà un'unione di Chiesa è stato Apocalisse 17 dice la stessa idea ma con simboli diversi Apocalisse 17 parla del tempo finale Apocalisse capitolo 17 verso 1 e 2 poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse vieni io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice nella profezia la donna simbolizza la Chiesa è una Chiesa apostata vieni io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque con la quale hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione questa è un'unione di Chiesa è stato un'unione di Chiesa è stato la Chiesa ha diritto di esistere e pure lo Stato ha diritto di esistere il problema sorge quando l'unione è illegittima perché la Chiesa deve restare sposata soltanto a Gesù Cristo Gesù è il marito e la Chiesa è sua moglie e quando la Chiesa spinge i regnanti a fare ciò che dovrebbe fare Gesù Cristo accade che la Chiesa diventa apostata diventa una prostituta è proprio ciò che accade all'accaduta dell'impero romano la Chiesa che sorse usò il potere politico di Roma per perseguitare chi non era in armonia con la Chiesa lo si dimostra con la storia ora cito il commentario biblico della Chiesa ventista volume 6 pagina 1168 Ellen White scrive siamo giunti al tempo in cui la sacra opera di Dio è simbolizzata dai piedi dell'immagine in cui il ferro è mescolato con l'argilla Dio ha un popolo scelto che deve santificare il proprio discernimento che non deve essere apostata perché pone legno fieno e stoppia nel fondamento ogni persona leale ai comandamenti di Dio capirà che la peculiarità della nostra fede è il sabato del settimo giorno se il governo onorerà il sabato ciò non significa che devono legiferare per il riposo del sabato ma che rispettano il diritto del popolo di Dio di riposarsi il sabato e garantirlo in base al primo emendamento della costituzione poi dice se il governo onorerà il sabato come Dio ha ordinato continuerà nella forza di Dio e difenderà la fede una volta trasmessa ai santi ma i funzionari sosterranno il falso sabato e mischieranno la loro fede religiosa con l'osservanza di questo figlio del papato ponendolo sopra il sabato santificato e benedetto da Dio affinché che l'uomo lo possa santificare come un segno tra Dio e il suo popolo per mille generazioni il miscuglio tra chiesa e stato è simboleggiato dal ferro e dall'argilla questa unione sta indebolendo la forza delle chiese queste chiese che usano il potere dello stato produrranno dei brutti risultati gli uomini hanno quasi superato il limite del perdono di Dio si sono concentrati nella politica e si sono uniti col papato ma arriverà il tempo in cui Dio punirà chi ha ignorato la sua legge e le loro opere gli si ritorceranno contro ora mancano la montagna e la pietra cosa simboleggia la montagna? Daniele capitolo 2 verso 34 e 35 è l'apice di questo sogno mentre stavi guardando una pietra si staccò ma non per mano d'uomo e colpì l'immagine sui suoi piedi di ferro e d'argilla e li frantumò allora il ferro l'argilla il bronzo l'argento e l'oro furono frantumati insieme e diventarono come la pula sulle aie d'estate il vento li portò via e di essi non si trovò più alcuna traccia ma la pietra che aveva colpito l'immagine diventò un grande monte che riempi tutta la terra cosa significa il monte che riempie il mondo? nel verso 44 c'è la spiegazione del significato per questa cosa Daniele capitolo 2 verso 44 al tempo di questi re il dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto questo regno non sarà lasciato a un altro popolo cioè non ci saranno altri regni ma frantumerà e annienterà tutti quei regni e sussisterà in eterno il monte simbolizza il regno eterno di Cristo che riempie tutto il mondo e in che modo si stabilirà questo regno ora viene la roccia Daniele capitolo 2 verso 45 esattamente come hai visto la pietra staccarsi dal monte non per mano d'uomo e frantumare il ferro il bronzo l'argilla l'argento e l'oro il grande Dio ha fatto conoscere al re ciò che deve avvenire d'ora in poi il sogno è veritiero e la sua interpretazione è sicura Matteo capitolo 21 verso 42 Gesù disse a loro non avete mai letto nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata d'angolo questa è opera del Signore ed è meravigliosa agli occhi nostri parlando della pietra rifiutata dagli edificatori Gesù parlava di se stesso quindi la pietra di Daniele capitolo 2 simbolizza Gesù Cristo notate che questa pietra fu tagliata senza mano d'uomo cosa significa senza mano d'uomo ebrei capitolo 9 verso 11 si parla del santuario celeste in confronto a quello terreno ma Cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto questo è il santuario celeste mentre il santuario terreno fu costruito da Mosè venne fatto da mani umane ma Cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non fatto da mano d'uomo cioè non di questa creazione molti cristiani pensano di dover conquistare il mondo e stabilire il regno di Dio in America attraverso il potere dello Stato per ritornare ai vecchi tempi in cui questa nazione era cristiana ma il modo migliore per farlo è con la Chiesa che predica il Vangelo di Gesù Cristo alla gente con la potenza dello Spirito Santo il cuore umano cambia solo con lo Spirito Santo attraverso il potere del Vangelo Marco capitolo 14 verso 58 qui Gesù parla del suo corpo quando si incarnò chi partorì il corpo di Gesù è Maria che partorì Gesù come siamo nati anche noi ma il corpo risorto di Gesù fu dato attraverso un miracolo di Dio Padre Marco capitolo 14 verso 58 noi l'abbiamo udito dire io distruggerò questo tempio fatto da mani cioè il tempio costruito da loro e rimodellato da Erode e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani cioè senza intervento umano attraverso un miracolo di Dio il regno di Dio nel mondo non verrà stabilito attraverso le manovre umane ma lo stabilimento del regno eterno avverrà attraverso un miracolo esterno all'uomo con la pietra Gesù Cristo state attenti noi dobbiamo scegliere dobbiamo decidere se cadere su quella pietra e convertirci altrimenti quella pietra ci cadrà addosso e ci distruggerà qui non si parla solo di imperi e regni ma anche della nostra vita terminiamo con Matteo capitolo 21 verso 44 e chi cadrà su questa pietra parla di se stesso chiunque si converte sarà sfracellato e colui sul quale essa cadrà sarà stritolato oggi Dio ci chiede di ricevere Gesù Cristo come Salvatore e Signore cadiamo sulla roccia per rompere il nostro egoismo così quando Gesù verrà saremo nel suo regno la pietra non ci distruggerà ma ci salverà sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni